Mattio, ben arrivato. Intanto che effetto ti fa essere arrivato all'Inter? Grazie, è un effetto bellissimo. Oggi è una giornata importantissima per me perché arrivo in una grande squadra come l'Inter, quindi sono emozionato e non vedo l'ora di iniziare. Che effetto ti fa sapere che la società ti ha voluto fortemente? È un grande effetto. Ringrazio la società, il mister, il direttore, il presidente che mi hanno voluto. Ringrazio anche il Sassuolo Calcio che mi ha dato la possibilità di venire qui e che mi ha fatto crescere. Hai già giocato tante volte a San Siro, tante volte da protagonista. Adesso sarai protagonista con i colori dell'Inter. Immagino che sia una cosa che ti inorgoglisce tantissimo. Sì, tantissimo. San Siro è stato l'unico stadio in Italia che comunque la prima volta che sono entrato mi ha fatto venire i bribe. Poi San Siro mi ha sempre portato fortuna, sia con l'Inter che con il Milan. Quindi speriamo che quei gol che ho fatto contro l'Inter adesso saranno tanti quelli a favore. Hai un idolo, un giocatore a cui ti sei ispirato e che ti ispira ancora? Ho sempre guardato come punto di riferimento Totti perché crescendo a Roma hai sempre lui come obiettivo. Però ci sono tanti giocatori in cui mi piacciono. Però uno in particolare no, mi piace comunque Messico in cui è un campione fuori dal normale, ma come Ronaldo, come tanti esterni. Hai giocato tante volte contro l'Inter. C'è qualche giocatore di l'Inter che ti ha impressionato in modo particolare? Sicuramente i cardi. È quello che comunque magari non vedi tanto durante la partita, ma poi casca una palla dentro l'aria e fa gol. E quindi sicuramente quello che mi ha impressionato di più, ma anche come Perisic ha tanti giocatori di qualità. Ultima cosa, Matteo, ti chiedo cosa ti senti di dire ai tifosi? Dico ai tifosi che comunque metterò il massimo impegno per onorare la maglia sempre fino alla fine. Grazie. Prego.